Grazie a tutti Aio Che schifo Che stanno facendo Guarda, guarda Terribile Vuoi mettere anche l'altra cuffia Ma chi è sta gente? Impassibile Adesso iniziano i cosiddini Aspetta perché Gio non avevi ancora visto nulla Ma qua ho avuto una lì del resto Sono un amparo All'altra manca Il gioco è sta ancora riposando? Madonna Madonna Ma chi sono sti testi di cazzo? Non so, sta tirando su? Non so, guarda che punto sono Che schifo è? Non ci credo Ha fatto le cose con me Che schifo A che punto era? A che punto era? No, 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 no Si sta infilando un testicolo Si sta inchiodando una palla Sì, alla Letty Alla Letty Alla Letty lo facciamo vedere E dobbiamo tenarla all'inchiodata La Letty si mette a piangere Basta? Oh, fatemela voi Sto caricando Va bene Ma guarda la registrazione Non so, guarda la registrazione Un sottoeffetto di qualche sostanza Qualche spero Fammi vedere il video